Intimidazioni pesanti rivolte ai pescatori dal titolare di una cooperativa di pesca di Comacchio denunciato per estorsione. E' questo l'episodio che, secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani, sarebbe da ricondurre anche al clima di grande tensione che da tempo si respira attorno al nodo delle concessioni demaniali per la coltivazione e produzione di vongole in laguna. Clima che, secondo il consigliere, sarebbe da attribuire anche alla mancata trasparenza delle concessioni e agli squilibri economici che si vengono a creare. Bertani ha così presentato un'interrogazione su questo caso in regione. Si tratta di un episodio che, se le indagini dovessero confermare, sarebbe davvero intollerabile, spiega il consigliere pentastellato. Venire a sapere che ci sia qualcuno possibile concessionario di un bene pubblico che obbliga qualcun altro a vendere i propri prodotti a prezzi stracciati attraverso continue minacce non è accettabile. Ecco perché, aggiunge, chiediamo alla regione di non sottovalutare questo episodio e di pensare immediatamente a prendere le necessarie contromisure. Nella sua interrogazione, infatti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, oltre a chiedere di valutare un'eventuale costituzione di parte civile della regione nel procedimento che dovesse aprirsi nei confronti del denunciato, invita Viale Aldo Moro a rivedere l'intero sistema di affidamento delle concessioni. Serve, soprattutto nel settore dell'allevamento e della produzione di vongole, un ripensamento generale delle scelte fatte fino ad oggi, oltre che, conclude Bertani, di un'indagine approfondita che escluda che le dinamiche eventualmente utilizzate dalla persona denunciata non siano un caso isolato.